Dinamo a Reggio Emilia per vedere la Final 8 2021, primo match del nuovo anno e penultimo del girone d'andata, questa domenica al Paladozza per i giganti sasseresi e i biancorossi della Reggiana. Il Team Sardo mira la qualificazione matematica alle fasi conclusive della Coppa Italia, in programma dall'11 al 15 febbraio al Forum di Assago, un passaggio che verrebbe in automatico con l'eventuale vittoria ai danni della squadra allenata da Martino. In alternativa resterebbe l'ultima sfida con Cantù in casa il 10 gennaio o sperare nei risultati favorevoli provenienti dagli altri campi. Al momento solo la capolista Olimpia e Brindisi, seconda in classifica, possiedono già il pass. Ci sono quindi da riempire sei caselle, anche se la Virtus Bologna, dopo aver schiantato ieri Pesaro nel recupero, di fatto ha già un piede tra le grandi. Tra le restanti cinque Saralotta, Brescia e Cremona potrebbero raggiungere i bianco-blu nel caso questi perdessero entrambe le partite. Ma avrebbero la peggio, avendo tutte e due finito con soccombere negli scontri diretti con i sardi. Situazione ribaltata invece per gli uomini di Pozzecco con Trento e Reier, da cui sono usciti sconfitti, rimediando con i bianconeri un meno 14 di passivo. Ma al di là dei calcoli, il banco vittorioso delle ultime quattro gare su cinque in campionato deve contare sul suo potenziale in costante crescita. Due nomi della rinascita, Miro Bilan, eletto miglior giocatore del tredicesimo turno, e Marco Spissu, che sempre contro Brescia, ha ottenuto il suo record personale in Serie A con 23 punti segnati. La qualificazione alla Final Eight passerà soprattutto dalle loro mani.